Piatto di pesce facile e gustoso, tonno in crosta. Ciao a tutti e benvenuti su Orazio Food Experience. Oggi proviamo a fare un piatto di pesce molto semplice, il tonno in crosta. Avevo del bel tonno per cui che avevo congelato e adesso proviamo a vedere come fare una preparazione rapida e gustosissima. Prendo il tonno dal frigorifero che ho messo in frigo questa notte per farlo scongelare. Questo in particolare è un tonno rosso ma non è necessario avere per farsi un tonno rosso, questo però ce l'avevo, tanto vale utilizzarlo. Cercherò di fare delle strisce, queste belle bacchette, era una fetta di circa 600 grammi. Questo è un tonno che si può mangiare crudo tranquillamente, il tonno è tenerissimo. Meraviglia. Non mettiamo niente qui. Vediamo gli ingredienti del tonno, tagliato così a un parallelo epipedo direi, bello, a striscioline. Per fare la crosta, un po' di salsa di soia e olio insieme a dei pistacchi, semi di sesamo e semi di papavero. Un po' di sale. Io se metto la salsa di soia non metterò il sale, se non metto la salsa di soia ci vuole un po' di sale. Ecco, io metterò la salsa di soia e quindi il sale direi che non lo userò. Questo è il momento di iscriversi al canale, è importante farlo perché così lo sosteniamo. Chiudiamo un attimo e mettiamo in frigorifero intanto che prepariamo la pralinatura di questa meraviglia. Ho acceso il fuoco, facciamo tostare un cucchiaio di semi di sesamo. Bisogna stare attenti di tenere un fuoco abbastanza basso perché se si tostano troppo i semi di sesamo poi diventano un po' amari. Un paio di minuti basteranno. Ogni tanto vale la pena di odorare. Dunque, ho ridotto i pistacchi con il mini pimmer a granella. Ho tostato il sesamo e ho mischiato insieme anche al papavero. Questa è la granella che ricoprerà il nostro tonno. Allora, la nostra salsa di soia, aggiungiamo anche un po' di olio. Ok. Facciamo insaporire. Facciamo questa meravigliosa pralinatura intorno al nostro tonno. Facciamo che qui la salatura gliel'ha data un po' la salsa di soia. A me sembra che vada molto bene la salsa di soia col tonno. Facciamo scaldare un po' la padella. Non vogliamo cuocere all'interno questo tonno perché questo tonno si potrebbe mangiare già crudo. E quando faremo un po' di, così, una lievissima cottura all'esterno, il tonno dentro sarà crudo. Tenete conto che questo tonno che io avevo congelato, scongelato, quindi aveva fatto tutta la sua bella catena del freddo. Quando è arrivata da me, io ho supposto che la catena del freddo fosse a posto. E' come mangiare del pesce crudo. E' importante sapere questa cosa qui. E' pronti? Facciamo in due volte. 20-30 secondi per parte. Finiamo la cottura degli altri finger, questi finger di tonno. Ok. Et voilà. Tonno in crosta. Pronti per impiattare? In realtà questo è l'ultimo pezzettino. E qui oggi ho tre piatti. Oggi, sorprese, ho due amici che mi aiuteranno a degustare questa meraviglia. Oh, eccoci Orazio, io arrivo sempre in punta di forchetta, ma oggi abbiamo voluto esagerare perché insieme a me c'è Mario. Ah, guarda. Alle armi, come si dice. Perché tu volevi essere certo di aver cucinato bene oggi. Assolutamente sì. Allora, io adesso vi do un piatto solo a forchetta, senza nemmeno il coltello. Questo qui, anche se non sembra così, è un tono ricoperto di granella di pistacchio con del sesamo tostato e dei semi di papavero. L'ho leggermente scottato, c'è un pochino di salsa di soia, ma niente di che. Voi provate, o è buono o non è buono. Esatto. E per me è importante sapere com'è. Devo dire che si taglia con un grissino. E ti ricorda che io devo sentire. Raccontaci di questo tonno, che tonno è? Allora, questo qui, un tonno rosso, comunque si poteva fare anche con il nostro tonno, che è buonissimo peraltro. Notevole, Orazio, tu sai che in Giappone direbbe Todemo oishi, yoto, koloshiku, onegashima. Io non so cosa vuol dire, spero che vuol dire. Ho detto che era un piatto della Madonna. Ho capito, che era di molto buono. Di molto buono, detto in dialetto di Osaka. Va bene, però con questa pralinatura, così viene buono anche il nostro tonno, che è buonissimo. Adesso questo qui ammetto che era un po' particolare, perché sembra più grasso, più bello, però è buono lo stesso. Anche, scusami, il colore viene della cottura perfetta. Cioè è una cosa... È appena rosato. Sì, è rosato dentro, però è scottato solo fuori, ho fatto 20 secondi da ogni parte. Infatti si vede. Un minuto finale, anche un po' meno di 20. Una leggera scottatura. Buono. Di molto buono. Beh, senti Orazio, con un piatto così straordinario cosa ci beviamo, eh? Non mi deludere, qua dobbiamo volare alti, eh? Qui ci metterai una bella bolla e stiamo tranquilli. Da dove ti piacciono le bollicine, qui secondo me ci sta benissimo. Questo è un piatto anche abbastanza grasso, delicatissimo, ma grasso. Una sgrassata di una bella bollicina ci sta molto bene. Chiaramente un vino bianco con una bella acidità. E che non sia invadente, perché questo qui è un sapore così straordinariamente delicato che secondo me vale la pena di essere assaporato fino in fondo. Ma hai visto la sua maglietta? Ho visto, ma se la volessi come faccio? Link in descrizione. Fantastico. Vi consiglio di iscrivervi alla mia newsletter domenicale. E soprattutto non dimenticate di iscrivervi al canale di Orazio, eh? Certo, e se il video vi è piaciuto cliccate like. E non dimenticate di attivare la campanella, eh? Ciao e alla prossima! Ciao e alla prossima!